L'educazione al rispetto della natura e degli animali è molto importante e le nuove generazioni se ne devono fare necessariamente carico. Il messaggio è che possiamo divertirci e festeggiare tutti insieme senza danneggiare gli altri. A Capodanno è tutto l'anno né botte né botti. È il claim della campagna informativa lanciata a ridosso delle festività natalizie di fine anno dal Comune di Belluno che intende in questo modo sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità dei fuochi d'artificio. L'idea è partita dal gruppo Belluno al centro che durante l'ultimo Consiglio Comunale ha incassato un voto bipartisan sull'ordine del giorno volto a chiamare l'attenzione su un progetto educativo piuttosto che all'emanazione di un'ordinanza di difficile applicazione. Abbiamo deciso di proporre questo progetto Basta Botti che avrà il suo sviluppo con affissioni nel territorio comunale, avrà una divulgazione nel sito istituzionale, ma avrà poi anche il coinvolgimento delle scuole proponendo anche di laboratori per far comprendere quanto pericoloso sia l'utilizzo di questo materiale pirotecnico. Attenzione perciò al frastuono che provocano i botti, che causano disagio e forte stress alla popolazione, specie anziani, malati e ospedalizzati, e arreccano disturbo alla fauna selvatica e agli animali domestici. Nelle scuole sarà proposta attività didattica con il materiale realizzato dalla Lega Antivivi Sezione e dal Ministero dell'Istruzione patrocinato dal Comune di Belluno. È l'inizio di un percorso educativo, aggiunge il Sindaco, che vorremmo ci portasse ad un cambio di mentalità generale. L'obiettivo di questo progetto è proprio di portare questa sensibilizzazione e portare soprattutto le nuove generazioni al sempre meno utilizzo di questo materiale.